Una delle meraviglie di Gubbio, piazza grande con il palazzo dei Consoli che merita tutta la nostra attenzione e tutta la nostra volontà di promuovere le bellezze di questa città. Franco Zeffirelli ogni mese a cena insieme mi raccontava le bellezze di Gubbio perché è veramente la città più bella del mondo ma non possiamo essere attaccati solo ed esclusivamente alla nostra bellezza, bisogna riempirla di contenuti per dar modo di avere una città sempre viva, sempre attenta. Siamo qui, alle mie spalle c'è la piccola stanza che raccoglie le tavole Gubbine, uno dei più grandi patrimoni della nostra comunità, noi intendiamo realizzare in un posto forse migliore di questo per l'ampiezza e per il valore da dare un museo proprio sulle tavole Gubbine.